Sono state Diaku Pellinen ed Enrico Better alle vittorie nell'ultimo round stagionale del campionato italiano turismo Corso Siamonza. Il successo di gara 1 per il giovane finlandese è partito in pole position sulla Honda Civic TCR della MM Motorsport e al termine di un duello appassionante durato fino all'ultimo giro proprio con il pilota bresciano della Seat Leon TCR di Pitlane Competizioni. Luigi Ferrara, dopo essere stato autore di una partenza strepitosa dall'ultima posizione in griglia, conquista invece uno splendido terzo posto al volante della Subaru Impreza WRX STI della Top Run all'esordio tricolore. È stata una gara difficile anche perché la Honda adesso è veramente molto pesante. Questo ha inciso molto sul rendimento soprattutto nelle fasi finali ed era difficile rimanere nelle giuste traiettorie. Comunque è stato un ottimo risultato per il team e per me. Sono veramente contento. Credo che questo sia davvero un ottimo campionato e credo che il prossimo anno vedrà più macchine e più team coinvolti anche per lottare per la vittoria. Per essere il primo anno è comunque già ottimo. Sì, sì, una bellissima gara. Teni conto che nelle libere abbiamo fatto massimo cinque giri perché poi abbiamo avuto problemi al motore e le qualifiche le abbiamo saltate. Però poi i meccanci durante la notte hanno fatto un lavoro eccezionale. Più che una gara di rimonte è stato sinceramente più una gara... Cioè, finalmente abbiamo visto il traguardo senza problemi, quindi l'obiettivo era arrivare al traguardo. Infatti io già da 6 giri alla fine controllavo tutte le temperature, controllavo la macchina e se era tutto a posto. Adesso in gara 2 spingerò ancora di più e vediamo un po' cosa succede. In gara 2, Better ha partito in pole, firma la sua prima vittoria stagionale dominando dalla prima curva dove invece escono di scena Pellinen e Ferrara, i suoi avversari più temibili. E dal podio di Monza lo sguardo è già al futuro. Sì, sono proprio contento. Mi spiace per Acu perché alla fine sarebbe stata una bella gara, secondo me ci saremmo divertiti. Le gare sono così, ho guidato in scioltezza diciamo, sono veramente contento. Il prossimo anno vorrei continuare con il TCR, con Seat e con la Pitlane, visto che mi trovo bene, sono bravi e mi danno sempre delle macchine fantastiche, piacerebbe continuare con loro. Con il secondo posto di gara 2, Romy Dall'Antonia si aggiudica con Samuele Piccine il terzo posto assoluto nella classifica di campionato TCR, un risultato da incorniciare per i due alfieri della BF. Sì, questo è stato un campionato che avrei messo firma all'inizio dell'anno, non ci aspettavamo. Io e Samuele siamo andati molto bene, siamo stati costanti, non abbiamo fatto errori, non avevamo fatto incidenti e oggi siamo stati anche fortunati per la collisione primo giro, però è un giusto risultato che premia tutto lo sforzo che abbiamo fatto quest'anno e dedico questa vittoria al team BF Motorsport e Mario Brigadori che ci ha dato sempre il massimo, sempre una gran macchina e sempre dei bei setup. Questo è il coronamento di un piccolo sogno che siamo riusciti ad andare in un campionato italiano importante in pista e io spero di proseguire e il prossimo anno anche di magari fare un saltino più alto e prendere anche un TCR e così ce la giochiamo. Grazie. È stata grande gioia a Monza per Alberto Bassi che dopo il tricolore di TCS guarda ora il futuro sempre nei colori SEAT ma magari nella classe superiore. Sì, sì, abbiamo dimostrato anche oggi che la nostra macchina era la più forte, quella messa a posto meglio, sono venuti a sfidarci però non è semplice sistemare una macchina di serie e farla andare bene tutto il weekend. È questa la differenza che ha fatto SEAT durante tutta la stagione e vincere a Monza e a casa mia è una bella soddisfazione, due volte doppietta, quindi bene così. L'appuntamento con il campionato italiano turismo è al Motor Show di Bologna dove i protagonisti della serie tricolore saranno nuovamente impegnati in gara nella spettacolare arena dell'area 48.